Uno studio condotto negli Stati Uniti sul vaccino anti-covid di AstraZeneca ha dimostrato un'efficacia statisticamente significativa del 79% nel prevenire l'infezione con sintomi e del 100% nel prevenire la malattia grave e i ricoveri. A comunicarlo è lo stesso gruppo farmaceutico anglo-svedese, il quale sulla base di precedenti studi ritiene che se la seconda dose viene somministrata dopo le quattro settimane previste potrebbe aumentarne ulteriormente l'efficacia. Un raggio di sole sulla nube che preoccupa l'opinione pubblica dopo la sospensione via precauzionale del vaccino di AstraZeneca. Secondo il commissario europeo per il mercato interno incaricato dalla campagna vaccinale Thierry Breton, l'Europa potrebbe raggiungere l'immunità di grege entro il 14 luglio. Un ottimismo che nasce dall'aumento previsto delle consegne di vaccini, 60 milioni di dosi a marzo, 100 milioni attese ad aprile, 120 milioni a maggio. Con 55 fabbriche impegnate, l'Europa è il continente che sta producendo più vaccini, per questo non abbiamo bisogno dello Sputnik, afferma. Eppure esperti dell'EMA si recheranno a Mosca il prossimo 10 aprile per monitorare gli effetti del vaccino russo. E intanto le autorità sanitarie dell'Ungheria hanno autorizzato per uso di emergenza il vaccino cinese anti-covid sviluppato dalla CanSino Bio. Al vaccino, che richiede una sola dose, era stata programmata una sperimentazione su oltre 40 mila persone, provenienti anche da Pakistan, Russia, Messico e Cile.